Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, video che vede come protagonista una soundbar a marchio Elegant. Questa è la confezione, si tratta di una soundbar da 10 watt, quindi non potentissima, ma che tuttavia ha una buona qualità audio. Ovviamente si tratta di un prodotto economico il cui prezzo si aggira sui 25-30 euro. Vi lascerò tutti i link in descrizione video come al solito, ma prima di questo andiamo a vedere la nostra soundbar. Questa è la confezione, come vedete c'è il marchio Elegant e la barra raffigurata. E qui sotto la dicitura 10 watt Colorful Light USB Speaker, in quanto si tratta di una cassa da 10 watt dotata di luci led. Andiamo adesso a fare l'unboxing di questa soundbar. Il modello è SR200 Plus. Sul sito della Elegant potete trovare vari tipi di casse. Questa è una delle ultime uscite. All'interno della confezione si trova il manuale utente. Al suo interno ci sono varie lingue e tra queste anche l'italiano, quindi ottima cosa. Poi troviamo ancora una card di ringraziamento da parte del marchio per l'acquisto della soundbar. Ed infine ben imballata la soundbar. Eccola qui, dimensioni molto compatte, ha infatti un design salvaspazio, ha un peso di soli 670 grammi e delle dimensioni abbastanza ridotte. Stiamo parlando infatti di 42 centimetri di lunghezza, 6 centimetri di altezza e 6 di profondità. Queste dimensioni compatte consentono di poter posizionare la soundbar anche sotto il monitor di un pc o sotto la televisione, senza dover quindi sacrificare lo spazio della propria scrivania o del proprio mobiletto. Ha inoltre un'ampia compatibilità con i più vari dispositivi, può essere infatti applicata a pc, notebook, laptop, smartphone, tv. Inoltre ad essa possono essere collegati tramite questi due ingressi jack, tutti i dispositivi dotati appunto di jack da 3,5 pollici, quindi cuffie e microfoni dotati di questo attacco. Dal punto di vista estetico la soundbar è caratterizzata da una plastica nera opaca rivestita da una rete metallica sul fronte, a copertura dei due altoparlanti da 5 watt ciascuno per un totale di 10 watt. I due altoparlanti sono dotati di tecnologia doppio basso doppia membrana proprio per garantire dei bassi più accurati. Nel momento in cui la soundbar viene collegata ad un ingresso usb spiccheranno sul nero della soundbar i led di colore blu posti attorno alla manopola del volume e quelli a colori cangianti posti invece sui due altoparlanti antilaterali. Questo conferisce alla soundbar un tocco di aggressività che può andare a caratterizzare le vostre postazioni o perché no il vostro angolo tv. La manopola centrale ovviamente consente di regolare il volume degli altoparlanti ed in senso orario si va ad innalzare mentre in senso anti-orario si va ad abbassare fino al click con il quale si spegne totalmente la soundbar. Questa soundbar è dotata quindi di illuminazione a led che presenta tre modalità di illuminazione regolabili dal pulsante touch posto sulla parte superiore. Adesso andiamo a collegare la soundbar al pc così vi faccio vedere le varie modalità luminose e procediamo anche ad un test audio della cassa. Ecco qui la nostra cassa da vicino sul retro come vedete è dotata di due cavi uno che va collegato all'ingresso usb e l'altro con due jack uno per il microfono e l'altro per le cuffie cavo usb cavo per le cuffie e cavo per il microfono. Ok abbiamo collegato la cassa andiamo ad accenderla ecco qui che si illumina il led blu attorno alla manopola e i led attorno agli altoparlanti. Come vi ho già detto prima qui in basso ci sono i due ingressi per le cuffie e per il microfono da poter collegare se si preferisce utilizzare delle cuffie quindi disattivare l'altoparlante mentre qui in alto c'è il pulsante touch che va a gestire i led luminosi degli altoparlanti. Come vi ho già anticipato ci sono quattro tipologie di effetti selezionabili tramite questo pulsante touch sulla parte superiore della soundbar. Il primo consente di far andare le luci led al ritmo di musica quando la musica è attiva ovviamente. La seconda modalità consente un passaggio graduale attraverso sette colori come vedete adesso è verde poi passa per l'azzurro blu viola rosso ci sono sette colori differenti. La terza modalità consente invece di fissare la luce su un colore ad esempio adesso ho fissato il colore rosso e si può fare per ognuno dei sette colori quindi verde giallo quello che più preferite mentre quello centrale rimarrà fisso sul blu. E infine la quarta modalità è a luci spente adesso vi farò vedere le modalità con la musica. Ecco qui vado a posizionare la nostra cassa sotto il monitor come vedete compattissima e andiamo ad avviare la playlist così siamo a luci spente ancora vanno a ritmo di musica e e Grazie a tutti 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 Grazie a tutti